Continuano gli scavi nell'area archeologica di Pestum. Questa mattina a nuovo ritrovamento, un frammento di coppa di tipo ionico risalente alla seconda metà del VI secolo a.C. Sul frammento anche le impronte digitali. Cilento Channel si è recata questa mattina presso l'area archeologica e ha fatto visita allo scavo, intervistando i borsisti e il direttore del parco, Gabriel Zucktrigel. Direttore, procede speditamente con lo scavo che è iniziato lo scorso 17 ottobre. E con le nostre spalle la Domus, quindi vediamo già a buon punto lo scavo, ma avete trovato anche frammenti di reperti, insomma, basi, anche proprio questa mattina? Sì, esce materiale ancora di strati rimescolati, quindi stiamo cercando di capire la stratigrafia, la successione, la sequenza degli strati archeologici. Quelli più antichi ovviamente sono più bassi, noi vogliamo vedere quello che è sotto questa casa romana. Vediamo alle spalle il Tempio di Nettuno, intorno un abitato di epoca romana. Quasi tutto quello che vediamo, i muri, le case, sono di un'epoca molto successiva, come era la città, come erano le case, la vita quotidiana, l'economia nel momento in cui i templi furono costruiti. E questi materiali, alcuni sono più recenti, alcuni sono proprio di questa fase. Intanto questo scavo è aperto, quindi i visitatori possono arrivare qua direttamente o qua, possono vedere quello che accade. Ogni giorno alle 12 facciamo una visita accompagnata, quindi è un'attività di ricerca, però anche una cosa che vogliamo condividere con il pubblico. Ci potete seguire anche su Facebook, su Twitter, eccetera. Quindi cerchiamo di coinvolgere, di rendere partecipe il pubblico. E penso che così dovremo fare anche per altri scavi che vogliamo fare, come museo, ma anche con le università. Ricordiamo infatti che la prima domenica del mese c'è l'apertura gratuita degli scavi dell'area archeologica, e quindi invitiamo i telespettatori a recarsi proprio a Pestum per prendere visione di questo scavo che durerà fino, vogliamo ricordarlo, direttore. Durerà cinque settimane. Chi vuole venire la prima domenica ovviamente come sempre gratuita, però noi abbiamo anche un abbonamento al costo di 15 euro che permette l'ingresso per un anno intero dal momento in cui si attiva. E quindi chi vuole può venire ogni giorno e vedere direttamente, indiretta, quello che esce. Direttore, possiamo anche ricordare gli orari del museo, proprio per invogliare i telespettatori a venire a visitare anche la casa dell'archeologia? Sì, dalle 8.30 fino alle 19.30. Siamo aperti. Lo scavo comincia un po' prima, quando il parco è ancora chiuso, prima mattinata e poi chiude verso le 16. Quindi chi vuole vedere gli archeologi al lavoro dovrebbe venire prima delle 4. Ringraziamo il direttore Gabriel Zuchtiger per la disponibilità e speriamo di avervi fatto cosa gradita e di avervi mostrato un po' di curiosità e quindi che cosa aspettate. Venite all'interno del parco archeologico di Pestum per venire a vedere con i vostri occhi quello che sta avvenendo. In compagnia dei due borsisti, Francesco e Francesca, per fare un aggiornamento per voi i telespettatori. Allora Francesca, raccontiamo un attimino ai telespettatori, quindi ci andiamo un po' nel tecnico di questo scavo. Perché avete scelto proprio questo punto? Sì, ci troviamo nella Domus 2. Siamo appunto alle spalle del santuario meridionale, in particolare del Tempio di Nettuno. La Domus 2 che è il frutto dell'accorpamento di due Domus di dimensioni minori che in epoca repubblicana vengono accorpate a creare questa grande Domus, quindi composta da un primo quartiere che si sviluppa intorno all'Atrio con Impluvium e un secondo settore che viene ricordato dalle fonti più recenti, bibliografiche, come il settore meridionale della Domus. E qui, negli anni Sessanta, l'archeologo Voza eseguì dei saggi in profondità e portò alla luce dei setti murari verosimilmente pertinenti ad una struttura, secondo l'archeologo, di epoca arcaica. Nel 2007, durante i lavori di restauro e di risistemazione di questo settore della Domus, furono riportate in luce queste strutture e preservate attraverso la stesura di un tessuto non tessuto poi colmato con terreno di riporto. Quindi il nostro primo lavoro è stato proprio quello di concentrare qui, nell'angolo sud-orientale della Domus, i primi saggi per riportare in luce queste strutture e poter eseguire ulteriori saggi in profondità per sistemare e riordinare anche la cronologia di queste evidenze. Allora, in effetti sono una serie di testimonianze strutturali murarie che si riferiscono a più fasi di vita di questo ambiente domestico, presumibilmente domestico. Le strutture che stiamo portando alla luce, parte già note dagli scavi precedenti, hanno la difficoltà di essere collocate precisamente in un arco cronologico assoluto, che ha una data d'inizio, una data di abbandono, un suo periodo di vita. Altro problema è legare tutte queste strutture che si coprono, si tagliano, si intersegano, si incrociano l'una con l'altra a diverse funzioni, a diverse dimensioni, a diversi periodi di vita ed età. Ora, la situazione non è semplicissima dal punto di vista dello scavo proprio perché ci troviamo in una condizione di un ambiente o più ambienti a lunga continuità di vita, già in epoca antica, su cui poi si sono concentrate diverse attività di scavo. Quindi il nostro obiettivo è riformulare topograficamente nel corso del tempo le variazioni delle strutture che stiamo recuperando, dare loro una funzione e poi insomma verificare su una scala cronologica assoluta le varie epoche ed età di vita. Quanto in profondità scenderete con lo scavo? Scenderemo fino al termine della stratigrafia utile che ci può conservare delle informazioni di tipo archeologico. Quindi termineremo lo scavo una volta che raggiungeremo il banco di travertime di base su cui poi è stata costruita fin dai tempi iniziali la colonia di Pestum. Per chiudere questo quadro molto introduttivo della condizione iniziale di questo scavo è che le fasi più antiche, ovviamente, noi tentiamo di collocarle anche in un quadro topografico generale di Pestum e quindi nell'impianto urbanistico iniziale che venne costruito contestualmente diciamo da altre opere pubbliche e private della città.